mangia mangio è buono papà facciamo il video è buonissimo vuoi fare un saluto a chi vuole salutare a chi è non vuoi bene papà è vero sa sa proprio che mangia papà mangia allora si sa che le cadere metti il tappo piano mangia piano non ne voglio mangia non ne voglio come non ne voglio mi hai fatto pure il gelato mangialo vuoi mandare vicino a valentina no devi mangiare ciao mangia luca entra vieni qua cosa lo fai perché hai paura ad entrare saluta vittorio saluta ciao